Salvatore Rocca, Presidente del Movimento Forense, sede di Clotone. Noi oggi portiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alla magistratura onoraria di Clotone perché riteniamo che le loro rivendicazioni, sia per quanto riguarda le retribuzioni che la previdenza sociale, sono rivendicazioni giuste che devono essere prese in serie considerazione dal Ministro Buonapede e di conseguenza auspichiamo che nel tavolo delle trattative e le diverse rivendicazioni della magistratura onoraria vengono accolte in maniera positiva, prima ancora che la riforma del 2017 venga portata a termine. Noi come associazione stiamo promuovendo anche da...